Fittizia. Si parte. Partiti. Allo steccato è Golden Park, all'esterno Pearl of Money, Air Mail, Elettronica e Baltic Time. Golden Park e Air Mail conducono davanti a Pearl of Money, Baltic Time ed Elettronica. E in leggero vantaggio lungo la corda Golden Park, davanti a Air Mail, Pearl of Money, Elettronica e Baltic Time. All'interno è Golden Park, all'esterno Air Mail, seguono Pearl of Money, Elettronica, Passa Air Mail, davanti a Golden Park. Pearl of Money ed Elettronica in vantaggio Air Mail, davanti a Golden Park e Pearl of Money. Anche in questo caso, come da pronostico, così nella prima corsa e così anche in questa seconda, per il secondo posto c'era da scegliere tra Pearl of Money e Golden Park. Mi sembra che Golden Park abbia conservato il minimo dei margini, anche perché, come ha detto Marco Peraino, mille metri forse erano pochi. Per la sua Pearl of Money, beh, la vincitrice, niente da dire, come ha voluto, nelle mani di Christian De Muro, per il team Giorgi e la scuderia Kimax, che sta facendo molto ma molto bene in questa parte della stagione.